dai riposati ci parli dopo Giovanni sto per mandarti un video, lo sto facendo, darmi due minuti vai via coglione, uomo, davide, come sai, come sai, ce ne vedete? quando sei così, facciami indietro già, vai dire portati via via, qui, ne ho portati, no? dicendo stiamo tranquillamente qui, e trevi cosa fa, si nasconde questo è il presente consiglio, che ha paura del popolo, ha paura del popolo questo è il presente consiglio